Legian, è un periodo particolare perché la classifica è ancora molto buona anche al di sopra delle aspettative, però i risultati dicono che c'è stato un calo. Sì, è una questione solo di risultati perché le prestazioni ci sono state, c'è stata pure l'ultima dove secondo me meritavamo qualcosina in più. Che cosa è successo in quella partita? Sono stati degli episodi, dopo il gol ci siamo abbassati un po' troppo e poi alla fine abbiamo preso il pareggio loro. Poi secondo me potevamo fare qualcosa in più in superiorità numerica. Ma c'è il rischio che la squadra possa sentire un po' la pressione di questa classifica così bella? È un paradosso, ma c'è questo rischio? No, no, assolutamente, anzi perché se vincevamo con l'Ascoli si parlava di tutt'altro, però bisogna guardare avanti, bisogna già pensare al Perugia. Ritroverai dei compagni di squadra come Melchiori, anche se leggermente acciaccato, c'è Provere che sta facendo tanti gol? Sì, lo sto seguendo, poi nel nuovo ruolo da trequartista sta facendo molto bene. Sono contento per lui come anche per Federico e spero che continuino a fare bene, però da quella dopo ancora. Il mese di dicembre secondo noi è un mese molto importante perché poi si aprirà il mercato e si tireranno le somme di questo giro d'andata. Arrivano cinque partite che saranno belle toste. Sì, ci sono cinque partite toste, ma come lo sono per tutte le altre squadre. A Serie B, come si è mostrato finora, non ci stanno partite facili, partite scontate. Sono difficili per tutti e tutte stanno avendo le loro difficoltà. L'ultima, hai disputato anche l'ultima parentesi con la tua nazionale in Nations League, un bilancio anche di questa esperienza? È finito, è finito il girone, siamo rimasti nella nostra categoria, ora iniziano le qualificazioni e ci auguriamo di fare qualcosa di importante.